ciao a tutti farò ancora un pane integrale questa volta con i semini eccoli qua trovare scritto in descrizione tutte le dosi metto la farina in autolisi quindi una mezz'oretta questo è il licoli ho preparato il sale e l'acqua passata la mezz'oretta di autolisi aggiungo subito il licoli e faccio girare in planetaria io ho usato farina petra 9 integrale e una rimanenza di petra 3 la farina per focacce ma ne ho messa poca come avete visto l'acqua l'avevo messa quasi tutta per l'autolisi ed ora metto il resto piano piano metto anche il sale vedete aggiungo l'acqua piano piano e porto ad incordatura 10 15 minuti massimo alla fine poi ci aggiungo i semi che avevo preparato naturalmente io ho messo a piacere quindi fate voi ho messo un cucchiaino bello colmo di lino e la stessa cosa per i semi di girasole e di zucca se volete metterne un po di più non c'è problema mettete di pure quindi do un'altra giratina per amalgamare l'impasto e poi vado a versare nella ciotola oliata ora lo tengo a riposo un pochino 10 minuti e poi vado a fare un giro di pieghe direttamente nella ciotola ma se volete anche sul tavolo di lavoro però in ciotola va bene ecco qua faccio un giretto e una volta pronto lo copro e lo tengo ancora a temperatura ambiente almeno un'ora poi lo vado ad appoggiare in frigo naturalmente se state facendo questo questo pane in inverno non serve appoggiarlo in frigo si può fare benissimo in giornata ma qui sta facendo molto caldo siamo in agosto quindi l'ho appoggiato in frigo l'ho tirato fuori poi la mattina dopo tenuto a temperatura ambiente per farlo acclimatare prima di procedere ai giri di pieghe bene allargo allargo l'impasto piano piano amici volevo dirvi che sto non sto facendo molti video anche perché a parte il caldo la difficoltà per accendere il forno però in questo periodo ci sono pochissime visualizzazioni giustamente perché si sta tutti in vacanza al mare chi in montagna quindi non è che siamo lì a vedere i video quindi quando faccio i video a parte quei pochissimi iscritti affezionati che mi seguono sempre per il resto i video vanno un pochino rilento quindi è un peccato ecco stare lì a far video e poi non avere le visualizzazioni che servono al canale che aiutano a far crescere il canale bene detto questo questo è il primo giro di pieghe lo copro lo faccio riposare e poi procedo al secondo giro tra un giro e l'altro di pieghe come sapete bisogna aspettare almeno 30 minuti e 30 40 minuti è lo stesso dopodiché si allarga lì vado ad allargare l'impasto per procedere alla formatura del filone questi sono i semini come vedete durante la lievitazione hanno rilasciato i loro oli essenziali e il loro aroma ecco qua allargo in questo modo e poi piego piego i lembri al centro per formare il filone ho chiuso bene il filone ho incrociato come avete visto però volendo potete fare il vostro metodo ogni tanto cambio potete arrotolare l'impasto come volete io ho incrociato questa volta ecco qua lo dirlo un pochino e poi ho preparato il cestino dove metterò la semola ne metto un pochino anche sopra perché poi lo giro nel cestino metto la chiusura sopra in modo che poi vado a ribaltare il filone per la cottura ok ecco qua e naturalmente lo metterò a lievitare ancora adesso questa è una vostra scelta se farlo lievitare a temperatura ambiente se avete una temperatura decente in casa potete anche farlo altrimenti si può fare un altro passaggio in frigo questo dipende dai vostri tempi dal tempo che avete a disposizione insomma lo chiudo bene ecco qua penso che lo lascio a temperatura ambiente perché ho acceso anche il condizionatore e quindi aspetto che raddoppia quantomeno che lieviti un po bene sono passate all'incirca tre ore tre ore e mezza a temperatura ambiente eccolo qua io direi che è pronto ho acceso il forno per portarlo a temperatura 250 gradi con un pentolino per il vapore una volta caldo mi preparo il filone l'ho ribaltato su carta forno ci ho fatto ci ho praticato un taglio poi faccio scivolare la carta forno sulla teglia calda e in forno il timer l'ho messo a 45 minuti però poi tengo altri 10 minuti a spiffero ho abbassato a 220 dopo 20 minuti e poi alla fine a 200 ed eccolo qua vado a tagliare quando è freddo bene io direi che è venuto molto bene eccolo qua è bello profumato ora taglio qualche fetta che me le vado a surgelare così ce l'ho pronte anche perché in questo periodo sto mangiando poco pane e integrale quando lo mangio lo mangio integrale bene amici vi ringrazio della visione vi invito a condividere i miei video a lasciare un like sotto il video sul mio canale youtube e ci vediamo prossimamente per un altro video ciao iscriviti al canale iscriviti al canale